Allora, allora, vogliamo raccontarvi... Stai parlando un po' della 160. Vogliamo raccontarvi come è successo. Voi direte, ma Aldo dov'è? Aldo sta raccogliendo ancora le olive, perché ha tantissime piante. Perché tanto le sue olive si raccolgono fino a gennaio in un tratto, perché sono di una qualità particolare. Una qualità siciliana, Sagarruba. E quindi lui sarà impegnato fino a tutto gennaio. Tutto gennaio non lo potremo vedere.